Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. La Camera degli Stati Uniti quindi approva i 61 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina all'interno di un pacchetto più ampio che comprende aiuti anche a Israele e a Taiwan. Vedremo poi la situazione in Medio Oriente, ma la spiegazione forse ci viene fornita proprio dal quotidiano israeliano Harez e dal Wall Street Journal che descrivono com'è la situazione, mentre i media qui in Europa danno una versione completamente diversa. Poi se c'è tempo mi auguro di sì in questo nostro appuntamento del lunedì con la politica internazionale, parleremo di Russia e Cina che economicamente crescono più del previsto, la Cina addirittura del 5,3% nel primo trimestre il PIL, mentre il quotidiano Repubblica i giorni scorsi riportava che le stime sul PIL della Russia da parte del Fondo Monetario Internazionale erano sballate e qui ci sarà molto da dire. Intanto Repubblica come il mainstream nostrano addebita la colpa o le disamine a chi sta sopra di loro. Do subito il benvenuto ai miei ospiti del lunedì, Stefano Orsi, benvenuto. Buongiorno a tutti. E Giacomo Gabellini, benvenuto Giacomo. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Allora Stefano, iniziamo con un titolo, una disamina veloce, facciamo un primo giro sulla Camera che ha approvato i 61 miliardi. Qual è lo scopo di questa approvazione? Che ha visto anche il voto dei Repubblicani, mi sembra, no? Però su queste mosse qui dell'amministrazione Biden c'è sempre da tenere presente che fino a novembre ci sarà di fianco a loro il convitato di pietra delle elezioni, no? Allora, la cosa che più stupisce del gruppo che ha votato il pacchetto di aiuti all'Ucraina, a Israele, a Taiwan e poi una briciola di aiuti umanitari per calmerare i danni dei primi tre pacchetti praticamente, è il fatto che a capitanare la fronda repubblicana sia stato lo stesso speaker della Camera, Mike Johnson, che di fatto ha cambiato radicalmente le sue posizioni utilizzando oltretutto la stessa dialettica dei democratici riguardante il conflitto, il discorso di dover fermare Putin e via dicendo, e di fatto ha capitanato una fronda di repubblicani che hanno cambiato rotta e appoggiato la votazione che è passata con un'ampia maggioranza, tra le altre cose. Adesso c'è un problema interno ai repubblicani, quelli più fedeli ad esempio a Trump chiedono adesso le dimissioni di Johnson, quello che mi stupisce di tutto questo è che non ci sia stata una evidente contropartita a livello di scambio. Cosa intendi? Nel senso che non c'è stato ad esempio quel cambio radicale di politica sull'immigrazione che chiedevano, non ho visto solo una piccola parte degli aiuti per l'Ucraina sarà a prestito, adesso devo vedere nel dettaglio come viene suddivisa la spesa di questi aiuti, cioè quanto servirà per l'acquisto ad esempio l'invio di materiale già presente nei magazzini per capirci dell'esercito e quanto invece sarà acquisito dietro produzione e quindi diluito nel tempo. Non è uscito ancora, almeno ieri, il dettaglio di queste spese e quindi dovrò vedere un po' meglio poi queste. Non so se Giacomo ha trovato qualcosa. Sentiamo proprio Giacomo una prima analisi e poi approfondiamo. Diciamo che c'è stato un allineamento de facto, come diceva Stefano, tra il speaker Mike Johnson e i democratici. A ridosso delle elezioni, una cosa abbastanza sospetta mi verrebbe da dire, tanto più che Johnson aveva, come giustamente era stato sottolineato, basato la sua, diciamo, la sua scesa, speaker della Camera, posizioni molto diverse rispetto a quelle che ha sposato adesso. Quindi insomma ci sarebbe da indagare. Quali possono essere le ipotesi? Diciamo che questa approvazione da parte della Camera, Giacomo, possiamo dirlo, insomma è stata una vittoria di Biden, no? Tutto sommato. Certamente, è stata una vittoria di Biden, ci si giocava la faccia, buona parte, se non fosse passata quella non cambierà niente, secondo me non cambia assolutamente nulla sul campo di battaglia, quei soldi non lasceranno gli Stati Uniti, è un circolo interno che mirano, andranno in larghissima parte a beneficio del complesso militare industriale, che quindi queste armi immediatamente pronte alla consegna non ci sono, o meglio ce ne sono pochissime, assolutamente insufficienti per, diciamo, porre l'esercito ucraino nelle condizioni di ribaltare la piega che hanno preso gli eventi sul campo di battaglia, insomma. Quindi questo stanziamento, Giacomo, non cambia secondo te il corso del conflitto? Il principale deficit ucraino sono gli uomini, innanzitutto, ho ricordato questo, ci sono chiaramente altre mancanze, per esempio i sistemi antiaerei, ultimamente la Russia sta devastando letteralmente buona parte delle infrastrutture critiche ucraine, ha cominciato a prendere di mira centrali di produzione elettrica, quindi quello è un dato abbastanza interessante e lo sta facendo dopo aver evitato di farlo per i mesi precedenti, quindi segna che la Russia sta alzando il tiro decisamente e l'Ucraina non ha le risorse per fronteggiare questo tenere di sfida. Naturalmente io credo che alla base di questo accomodamento ci sia qualche promesso sottobanco che potrebbe costituire, essere data da una serie di concessioni repubblicani nel caso in cui isolino Trump, per esempio, o marginalizzino la compagine trumpiana, facciano terra bruciata intorno, perché questa per Trump è una sconfitta indubbiamente, per il suo nocciolo duro, oppure può essere semplicemente ricattato, sappiamo quanto sia ricorrente l'utilizzo di questi strumenti nella politica non solo statunitense, del resto, però è un dato di fatto che per esempio il sindacato della polizia di frontiera statunitense abbia inoltrato una lettera di protesta contro la decisione del congresso di approvare questi 95 miliardi di dollari di aiuti a Taiwan, a Israele e all'Ucraina, perché si danno soldi evidentemente, questa è la posizione del sindacato, per la difesa dei confini altrui, ma non la difesa dei confini nazionali. Il fatto che un sindacato della polizia di frontiera prenda posizione in maniera così pubblica e aperta è un segnale chiarissimo. Diciamo che rimanda a quello che un po' erano arrivate voci in proposito, circa il fatto che la compagine trumpiana, a differenza del 2016, quando riuscì a vincere le elezioni in maniera abbastanza inaspettata per alcuni perlomeno, adesso è riuscita a ottenere un base di consenso negli strati intermedi dell'esercito in questo genere di forze, quelle preposte per esempio alla difesa dei confini e nei settori intermedi della difesa, quindi polizie e soprattutto negli singoli stati federali. In una fase in cui c'è i rapporti tra governo federale dei singoli stati non è dei migliori. Entrambe le parti si stanno preparando per la sfida di novembre e lo fanno con le armi che hanno a disposizione, quindi non mi stupirei assolutamente se Johnson fosse stato o ricattato o che la sua voltafaccia rientri in base ad un accordo sotto banco che sia stato siglato con le controparti democratiche. Resta il fatto che questo sarà una propaganda e poco più, perché dal mio punto di vista non c'è modo per cui l'Ucraina possa rovesciare l'esito della guerra, a meno che, come ha dichiarato Orban, qualcuno non metta a disposizione uomini sul territorio ucraino. Perché Orban stesso ha già dichiarato che non li metterà ai suoi, no? Orban ha detto che l'Ungheria non manderà assolutamente nessuno, però ha detto che dei colloqui che si stanno tenendo insieme all'Unione Europea ci sono, sembrerebbe che l'invio di truppe sul territorio ucraino sia un passo. Vedremo cosa c'è di vero e cosa c'è di esagerato. Sì, Stefano, Giacomo ha toccato parecchi punti. La Russia sta alzando comunque il tiro, Mike Johnson probabilmente è ricattato, forse in qualche modo anche Trump. e l'invio delle truppe europee, non lo so. Guarda, su Mike Johnson, inizio da qui, c'è la possibilità, visto che il pacchetto è principalmente stato votato per far sì che il conflitto arrivi almeno a oltrepassare il voto di novembre in qualche modo, io credo che non sia disgiunto il voltafaccia di Johnson da quello che è la gestione poi delle elezioni e del voto. Sappiamo che Trump è sottoposto a processi che sono in corso e proprio anche per il fatto che si sia il trumpismo da evento inatteso e sottovalutato, si sia trasformato in un movimento ben radicato in certi strati della popolazione. Voglio fare un esempio legato ad esempio alle forze dell'ordine. Poco tempo fa ci sono stati quattro presidenti presenti contemporaneamente a New York. Io ricordo le immagini di Clinton, Obama e Biden in un teatro per un evento per la raccolta fondi dove c'è andata l'élite, la creme della creme della società new yorkese e un quarto presidente che era presente invece al funerale di un poliziotto. Il quarto presidente era Trump che mentre i suoi colleghi stavano con il jet set della società borghese capitalista di New York lui stava in mezzo agli agenti di polizia per ricordare un agente ucciso e onorarlo della sua presenza. Ecco in quel momento si vede la differenza tra chi vive in un passato legato a vecchi schemi di comunicazione e chi invece è più legato alla realtà del paese, alla sua quotidianità e all'appoggio di gran parte della popolazione. Cioè Trump interpreta esattamente questo ruolo nella società americana, la sua controparte non vuole che arrivi alle elezioni. Quindi al di là del fatto che lui abbia vinto le primarie repubblicane, probabilmente troveranno un modo da qui al voto di novembre per impedirne addirittura la candidatura. In questo caso i repubblicani dovranno presentare qualcun altro necessariamente. E chi meglio dello speaker della Camera? Interessante questa Giacomo, è un'analisi bomba questa. Tutto è possibile, però il personaggio secondo me è talmente scadente e squalificato che la vedo dura, non che per carità gli altri siano chissà quali. No no, ma proprio per quello, proprio per quello Giacomo, proprio per quello è scadente e non piacerà agli elettori repubblicani. Quindi potrebbe diventare il candidato perfetto per i repubblicani, in modo che perdano chiaramente. E quello è un problema. Loro lo hanno allettato probabilmente con questa idea, cioè Trump non arriverà al voto perché lo bloccheremo e tu ti potrai giocare le tue carte con un appoggio anche esterno e della nomenclatura tradizionale repubblicana che evidentemente è ancora forte nella Camera. Perché molti sono passati dalla parte di Johnson in questa vicenda, molti veramente e una caduta di Trump che ne pregiudicherebbe di fatto ogni possibile rielezione, libererebbe probabilmente gli schemi fino adesso che si sono consolidati con un Trump forte, forte vincente e quindi la possibilità di candidarsi andrebbe a chi gode dei favori della nomenclatura. Ecco, in questo caso il cambio di casacca diciamo e di posizioni netto che ha fatto potrebbe diventare giustificabile. È possibile una cosa, cioè l'analisi è molto interessante, è possibile secondo te nella pratica che si verifichi? Ragazzi, si tratta di spianare la strada per la guerra civile a fare una cosa del genere. Cioè, qui io capisco gli accomodamenti, gli establishment eccetera, ma questo sarebbe uno schiaffone talmente, veramente voltare le spalle alla popolazione in maniera così conclamata, così diretta. Bisognerebbe anche confezionarvi sopra una narrazione adeguata per dissimularla, insomma. È perfetto per i democratici di oggi? Sì, ma i democratici di oggi ormai fanno fatica persino ad ottenere i voti di alcune componenti della società con le più giovani, perché sono resi corresponsabili in quello che molti percepiscono come un genocidio, quello di Israele. Hanno i voti degli irregolari a cui hanno promesso, hanno l'appoggio degli irregolari, a cui hanno promesso la normalizzazione della loro posizione all'interno del paese, anche qui una cosa proprio esattamente in linea con quello che, sono ironico naturalmente, con la percezione di larga parte della popolazione specialmente negli stati del sud, quelli che hanno più a che fare con il fenomeno dell'immigrazione a partire dal Texas. Lo forzeranno secondo te la mano su questo? Nel senso che li regolarizzeranno prima del voto? Allora, il timore c'è, era stato chiaramente denunciato questo atteggiamento da parte di numerosi repubblicani, irriducibili di Trump in particolar modo, quindi la possibilità concreta c'è, io ricordo che Biden per cercare di risollevarsi nei sondaggi aveva addirittura evocato la possibilità di concedere la grazia ad Assange, per far ricostruirsi una reputazione insomma. Quindi direi che qualsiasi cosa potrebbe accadere pur di dare una legittimità a un certo tipo di operazioni che vengono percepite da questi ambienti come necessarie a indirizzare il paese. Il problema è che il paese, o almeno una parte importante di esso, sembra veramente sul punto di non seguire più le proprie istituzioni. Lo scontro di cui parlavo prima, tra Stato federale e singoli stati, è un problema di non poco conto che per il momento c'è stata una pezza sopra, ma noi sappiamo che tutta la zona del sud che ha a che fare con l'immigrazione ha dei problemi enormi e onestamente di continuare ad essere trattata pesci in faccia da un'amministrazione che invece ha tutto l'interesse a mantenere il dispiegamento politico-militare statunitense all'estero, perché questo è garante di benefici al 0,01% della popolazione, comincia ad essere sempre più indigeribile. Voglio ricordare che sono usciti dei dati, mi pare una decina di giorni fa, dal Bureau of Economic Analysis, un ufficio statunitense di statistica, parlava del fatto che circa il 44% degli statunitensi si ritroverebbe nell'impossibilità di sostenere una spesa improvvisa di 1000 dollari. 1000 dollari. Sì, sì, quindi è una bomba economica sociale, insomma, in pratica. Credo che i poveri assoluti negli Stati Uniti abbiano superato i 40 milioni. Sì, sì, ma poi ci sono, se vogliamo guardarle tutte, i segnali di disagio sono enormi. L'epidemia di fentanyl, il fatto che una parte importantissima della popolazione sia in condizioni di obesità o diabetica. Sono segnali, e queste sono malattie che negli Stati Uniti sono malattie dei poveri, perché a differenza dei ricchi non possono permetterci un'alimentazione adeguata. Quindi, insomma, c'è una spaccatura a tutto spiano. E soprattutto, voglio anche dire un'altra cosa, questi fenomeni si verificano soprattutto negli Stati del Sud, che sono il tradizionale bacino di reclutamento per le forze armate, che da diversi anni mancano regolarmente gli obiettivi di arruolamento. Giacomo, sì, volevo chiederti, ma diciamo, i democratici sarebbero disponibili a barattare una vittoria loro, facendo cadere prima Trump, mettendo pure a rischio addirittura la coesione, esponendosi a rischio forse di una guerra civile. Non si dice in America che vinciamo noi o che vinca il nostro nemico, alla fine, il giorno dopo, siamo tutti americani. Il problema è che, secondo me, non c'è proprio il polso della situazione. Quello che diceva Stefano prima, io sono pienamente d'accordo, Trump va lì al funerale del poliziotto perché ha il polso, perché ha sempre avuto una straordinaria capacità di fiutare l'aria che tira e di sentire gli umori della popolazione, dell'americano medio, tantissimo. Del resto, se si guarda il suo circolo d'affari, è tutto concentrato in attività che sono seguite dall'americano medio, dai tornei di MMA, eccetera. Insomma, lui vive di queste cose, quindi lo sa che ci sono delle aree politiche inesplorate, non rappresentate, e lui ce n'è fatto portavoce. Ricordo che nel 2016, a differenza di quanto hanno detto dalle nostre parti che attribuivano la sua elezione all'aver cavalcato l'ondata xenofoba, eccetera, lui ha detto, chiaramente, lui si è fatto, si è intestato la battaglia degli operai disoccupati della cintura della ruggine, delle Rust Belts. Se si guarda tutti gli stati nell'area dei grandi laghi in cui sorgevano gli impianti della General Motors e della Ford, che adesso non ci sono più, si chiama cintura della ruggine, perché i complessi produttivi sono stati abbandonati e trasferiti in Messico o nel sud-est asiatico. E quegli stati hanno votato compattamente il repubblicano in quelle votazioni. È stato quello, sono gli cosetti swing states, gli stati che sono sempre oscillanti, non sono schierati in maniera così netta come può essere un Texas o una California. Texas per i repubblicani, California per i democratici. E soprattutto, quindi Trump sa che ci sono delle fasce importanti della popolazione e all'interno delle istituzioni, perché è il funnale di un poliziotto. Ci sono all'interno dei rappresentanti delle forze armate, delle forze di polizia, eccetera, persone che sono altamente insoddisfatte di come sono state trattate. E voglio ricordare anche un'altra cosa, ci sono all'interno degli Stati Uniti, alcuni singoli stati che stanno conducendo una politica estero-indipendente. Si pensi alla California che invita Xi Jinping, con il pompa magna a San Francisco, con tutti gli imprenditori che gli battono le mani, che è uno schiaffo in faccia all'amministrazione Biden, chiaramente. E ci sono stati come il Texas che hanno dei movimenti indipendentisti che macinano consensi e portano avanti una politica talmente disalineata rispetto allo Stato, al Governo federale, che sono arrivati anche allo scontro, come si è visto mesi fa, che quando il Texas ha preso un pugnato sostanzialmente una decisione del Governo e ha visto 25 governatori statali schierarsi dalla sua parte e contro il Governo federale. Io credo che, mentre Trump ce l'abbia al polso di questa situazione, io credo che i democratici, e buona parte dei repubblicani, i congressisti, se si guarda la composizione del Congresso, più di una metà sono miliardari. Di rappresentatività io ne vedo poca. Vivono in una bolla di sapone che li mantiene assolutamente separati, distaccati dal resto della società, di cui non hanno minimamente contezza, delle cui necessità non hanno contezza, di cui non si rendono conto cosa si rischia. Vedo un grande parallelo con i democratici anche qui in Italia, per esempio, che non sono fortemente ancorati, voglio dire, legati al mainstream, ai centri di potere, ma quanto ai cittadini, mi pare che vivano mondi separati. Esattamente, è proprio quello. Il fatto, si dice, dei partiti delle ZTL, per esempio, o comunque i centri storici delle città, un po' come noi, i nostri inviati all'estero, vanno a New York e non escono da Manhattan e pensano che il paese sia tutto così, no? Gli Stati Uniti sono quelli. Se ne escono un attimo nelle periferie, vanno in West Virginia, in Alabama, in Tennessee, vedono una realtà quanto diversa, di disagio sociale, di disoccupazione, proprio di declino. A Detroit, sui Monti Appalacchi. Cominciano a mancare le infrastrutture, cioè per esempio l'acqua potabile sta diventando un bene raro negli Stati Uniti, perché con il fracking che è stato mandato avanti a più sospinto in tutto il paese, ci sono contaminate buona parte delle falde acquifere e adesso in molti Stati trovare l'acqua potabile è un problema. Il caso di Flynn, per esempio, che è una città che è stata interamente avvelenata da questo genere di episodi. Quindi, se non si mette mano a questa situazione interna che sta... Gli Stati Uniti di oggi sembrano la tarda Unione Sovietica, veramente. Interessante. Senti Stefano, questo è stato un disamino estremamente interessante della situazione negli Stati Uniti in questo momento. Ritorniamo al tema iniziale. Quindi questi aiuti all'Ucraina in particolare, a cosa servono a tirare avanti fino alle elezioni e poi se la vedrà la prossima amministrazione? Guarda, il problema è che l'amministrazione Biden non vuole arrivare al voto con un fallimento, un secondo fallimento sulle spalle. Il primo, ricordiamo, è stato la disfatta della ritirata in Afghanistan che si è concretizzata sotto l'amministrazione Biden con quelle immagini devastanti per la coalizione dell'Occidente collettivo della gente che si attacca ai Galaxy per fuggire dal paese abbandonata dagli americani che di fatto avevano firmato la resa ai talebani abbandonando il paese e tutti coloro che avevano collaborato con l'amministrazione tipo coloniale. Vogliono arrivare quindi al voto senza che il conflitto ucraino sia arrivato a una sua definizione e quindi tirano a far crepare ancora qualche decina di migliaia di ucraini prima di eventualmente abbandonarli perché una volta terminato il processo elettorale l'amministrazione entrante sia quella che sia quindi o Biden o eventualmente Trump sarà lei a decidere il da farsi. Avrà quattro anni quindi potrà scegliere o prendere atto della situazione quindi dire noi non possiamo più aiutarvi i recenti appelli a inviare ad esempio dei sistemi di difesa aerea da parte di Culeba sono caduti nel vuoto perché l'Italia ha mandato dei missili anticarro la Francia ha detto no ci servono per le elezioni insomma noi ne abbiamo ancora due la Francia ne ha tre non è che possiamo dargliene molti voglio dire anche se gliene dai uno che cosa cambia? Niente viene distrutto poi entro due settimane magari come è successo a quelli precedenti il problema il problema è che alla fine delle fini anche se tu ti metti a produrre delle risorse quante ne puoi produrre nell'unità di tempo? Il problema è tutto lì nella capacità di produrre numeri sufficienti quindi comunque il tempo lavora contro l'Occidente in questo senso ma certamente l'altro giorno ho visto il video del ministro Shoigu che visitava lo stabilimento dell'Aural Vagonzavod di Oms dove hanno avviato una nuova linea di produzione di carri armati i T-80 BVM non bastavano i 1000 T-90 che producono hanno avviato riavviato una linea di produzione di carri di epoca sovietica ma aggiornati agli ultimi ritrovati di elettronica e di acquisizione dei bersali di gestione risultato ne producono 78 al mese le cifre che hanno detto nel video sono di 78 al mese per esperienza quando danno delle cifre in genere sono molto precisi tant'è che l'economist aveva confermato con quasi due anni di ritardo che le cifre che un anno e mezzo rotti prima Shoigu aveva dato sui programmi di produzione delle munizioni per l'artiglieria non erano frutto di fantasia o di propaganda ma erano proprio il piano preciso e l'ha confermato nei numeri e cioè sono a oltre i 3 milioni e mezzo di munizioni all'anno e stanno andando verso i 4 in realtà entro il 2024 vogliono arrivare a 5 milioni di munizioni prodotte tutta la Nato non arriva a un milione all'anno ora quando la Meloni vuol produrre in 12 anni 270 carri in 12 anni il programma va per i Leopard 2 A8 270 carri circa dal 2025 al 2037 12 anni a casa mia giusto bene sono 23 carri all'anno la Russia solo di T80 adesso ne produce 78 al mese la Krauss-Maffei non è piazzata meglio ne fa 40 all'anno di carri sì ok ecco chiarissimo chiarissimo vedo Giacomo che sorride infatti a sentire dove andiamo cioè sicuramente già conosce bene anche lui se anche gli producono qualcosa no in che numeri lo faranno visto che di stoccato pronto a consegnare non c'è più nulla punto di domanda perché anche la produzione dei missili antiaerei che devono produrli per poterli lidare perché non possono più intaccare oltre le scorte altrimenti ci troveremo totalmente indifesi da un eventuale attacco sono numeri minimi rispetto alle esigenze di un conflitto come questo hanno fatto mali conti su tante cose parleremo anche della crescita economica si pare che quei conti li hanno sbagliati tutti effettivamente veniamo veniamo Giacomo al Medio Oriente è il mainstream stesso a riconoscere che il conflitto per Israele è andato male citiamo il quotidiano israeliano Haaretz che credo sia il quotidiano più importante in Israele che ha scritto in maniera lapidaria che Israele ha perso e il Wall Street Journal scrive che Israele sta vincendo alcune singole battaglie ma di fatto sta perdendo la guerra questo è proprio il succo in estrema sintesi prego beh sì ma è quello che c'era da aspettarsi non avevano un'idea precisa sul da farsi quindi si sono invischiati in questa campagna di massacro indiscriminato senza avere un'idea di come gestire il dopo perché per loro il dopo non doveva semplicemente esserci dovevano sospingere tutti verso l'Egitto e liberare la striscia di Gaza c'è stata all'inizio di gennaio anche una conferenza sul ritorno a Gaza proprio in cui c'era una mappa in cui si vedevano dove sarebbero dovuti sorgere i nuovi insediamenti nella striscia di Gaza insomma ma le cose non stanno andando assolutamente così Israele di fatto l'esercito israeliano è di fatto impantanato nella striscia di Gaza ha all'opinione pubblica buona parte dell'opinione pubblica mondiale assolutamente contraria e anche buona parte dei governi perché noi abbiamo visto un risultato sotto molti aspetti epocale la Russia si è staccata pesantemente da Israele ormai in sede di consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invocato ha chiesto pubblicamente l'imposizione di sanzioni contro Israele i due paesi erano non dico alleati ma erano molto avevano rapporti molto stretti se si pensa al numero di ebrei russi che sono emigrati in Israele nel corso da partire dagli anni 80 e poi il russo è la terza lingua in Israele dopo l'arabo e l'ebraico quindi la situazione è piuttosto chiara sul campo di battaglia di Gaza le cose non stanno andando bene Hamas è lungi dall'essere sconfitto nonostante Gallant l'avesse dichiarato Urbia Torbi il 10 o 11 dicembre siamo ormai a quasi 5 mesi la situazione non è affatto così Siwar che è il leader militare di Hamas non è stato ancora trovato Hamas è tutt'altro che che è debellata nelle zone del nord di Gaza da cui si sono ritirati e da cui l'esercito israeliano si è ritirato sono rispuntati le forze di polizia di Hamas è interessante questo e questo porta c'è uno dei personaggi scusami più di rilievo di Hamas che tra l'altro i giorni scorsi ha incontrato il presidente turco Erdogan Sì a Nye al quale hanno ammazzato tre figli e cinque nipoti una cosa del genere durante le operazioni a Gaza è un dato abbastanza interessante mentre si tratta si tengono delle trattative Israele fa una cosa del genere ma non è la prima volta lo ha già fatto in passato il punto è che questa situazione sul campo di battaglia di Gaza spinge il governo israeliano ad alzare il tiro e quindi questo secondo me contribuisce a spiegare quello che hanno fatto non tanto il primo aprile con il bombardamento dell'ufficio consolare iraniano Damasco ma avevano fatto anche prima e continueranno sicuramente a fare cioè colpire senza riguardo per la sovranità altrui gli obiettivi che loro ritengono doveroso colpire in territorio libanese e siriano e adesso vedremo anche se proveranno con l'Iran mi sembra di capire non c'è una strategia vera e propria dietro c'è un tentativo di scatenare secondo me un grosso incendio di indurre l'Iran o qualche membro dell'asse della resistenza possibilmente l'Iran a compiere magari un'azione sbagliata magari se la rappresale iraniana avesse ucciso diversi qualche centinaia di civili per esempio israeliani a quel punto Israele avrebbe trascinato per la giacca gli Stati Uniti nel conflitto in un regolamento di conti possibilmente definitivo con l'Iran questa è un po' secondo me la logica dell'agire israeliano ma che è una logica oltre che pericolosissima rischia veramente di mettere gli Stati Uniti davanti a una scelta direi quasi dirompente perché sì l'appoggio Israele non verrà meno però è anche vero che il prezzo che gli Stati Uniti stanno pagando per continuare a proteggere le spalle Israele a prescindere da ciò che Israele faccia sta salendo a livelli vertiginosi in una fase in cui l'esito che va profilandosi sul campo di battaglia ucraino incrina la deterrenza statunitense l'autorità statunitense del mondo e gli Stati Uniti sono addirittura visti come compartecipi attivi del massacro nella striscia di Gaza perché senza le armi statunitensi e senza il veto statunitense in consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite Israele ben poco potrebbe fare quindi gli Stati Uniti hanno una reputazione che sta letteralmente cadendo in pezzi ma continuano ad accordare la loro appoggia Israele fin dove Biden ha fatto sapere apertamente che la contro ritorsione che Israele aveva dichiarato di voler sferrare contro l'Iran gli Stati Uniti sarebbero chiamati fuori si è poi assistito a quel genere di una cosa stranissima quella pseudo attacco con droni nella zona di Isfahan ma che non ha provocato alcuna vittima addirittura è stata minimizzata dallo stesso ministro degli esteri iraniano Smotrich che è il ministro delle finanze israeliano invece collocato su posizioni ultra oltransiste ha espresso insomma si è invece detto deluso per la moscezza questo è stato il termine causato della rappresaglia israeliana Israele è secondo me in un vicolo cieco e non sa letteralmente come uscire da questa situazione in cui si è infilato Stefano la contromossa diciamo israeliana che è stato doveva essere un rilancio perché ricordiamoci che la vicenda nasce dall'attacco all'ambasciata iraniana a Damasco da parte di Israele quindi è stata un'aggressione contro un atto di guerra contro l'Iran e per grazia di Dio che l'Iran si è contenuto in una risposta moderata di conseguenza gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele da un lato di moderarsi e dall'altro io credo però che Israele si sia moderato a causa del messaggio che ha ricevuto dall'Iran e cioè che fossero riusciti a bucare le sue difese aeree nonostante l'aiuto degli Stati Uniti della Gran Bretagna della Francia della Giordania per cercare di intercettare i bersagli quindi ci sono stati puntati lì anche i satelliti gli Hawax in volo e via dicendo nonostante ciò nove missili hanno colpito due basi importanti le più importanti basi aeree israeliane e questo è un messaggio chiarissimo che loro sapevano esattamente quanti missili lanciare per riuscire a bucare la difesa aerea e colpire le due basi principali le due basi aeree principali di Israele non è un messaggio da poco perché da quel momento in avanti qualunque cosa avessero lanciato dietro gli israeliani gli iraniani scusate sarebbero passate perché una volta che hai raggiunto il limite di saturazione della difesa aerea del tuo nemico tutto ciò che lanci in seguito arriva a bersaglio quindi se tu hai le batterie dell'Iron Dome che possono lanciare 200 missili contemporaneamente ma in realtà ne possono lanciare anche 5 o 600 probabilmente tra tutte contemporaneamente quando tu ne hai lanciate 700 i primi 600 vengono intercettati anche tutti ma i 100 successivi vanno a colpire le batterie che sono rimaste sguarnite e quindi tu la volta dopo non ne puoi più lanciare 600 per difenderti ma ne lanci 300 e tu a te basta lanciarne altri 600 e hai fatto piazza pulita di tutte le difese aeree del tuo nemico fine del discorso è solo una questione di numeri alla fine e questo è il problema e questo è il problema alla fine è questione di numeri e loro gliel'hanno dimostrato e tenete presente che nonostante che Israele fosse stato ampiamente aiutato da Giordania Francia Gran Bretagna Stati Uniti lo ricordo non c'era stato nessun aiuto di copertura cioè una saturazione preventiva dei sistemi di difesa da parte di Hezbollah né dal territorio libanese né da quello siriano e quindi l'attacco iraniano avrebbe avuto molta più efficacia se fossero partiti dei razzi secondari diretti a saturare le difese aeree israeliane in via preventiva per favorire l'arrivo dei balistici iraniani questo non c'è stato e nonostante ciò l'effetto è arrivato quindi Israele ha risposto in una maniera talmente evanescente da non essere neanche stata avvertita dagli iraniani di fatto hanno parlato di un danneggiamento parziale di un radar nella base aerea che poi nessuno ha visto tra le altre cose dal lato pratico nelle immagini via satellite di fatto hanno lanciato tre droni probabilmente oltretutto grazie a agenti interni all'Iran parlo probabilmente dalla zona kurda dell'Iran al confine con l'Iraq e nient'altro l'unica risposta praticamente che c'è stata è stata quella di colpire una base militare sciita in territorio iracheno un'aggressione quindi che ha portato alla morte di un soldato e di otto feriti tenete presente però che quelle milizie sciite fanno parte a tutti gli effetti dell'esercito iracheno e quindi hanno colpito una base dello stato iracheno non una base di una milizia XYZ che ha una base per i fatti suoi no hanno colpito una base di stato questo è un atto oltretutto molto grave certo Giacomo a te e poi l'analisi finale e poi passiamo alla situazione economica Russia e Cina volevo solo aggiungere una cosa il fatto che l'atteggiamento è stato definito quasi con toni trionfalistici il successo della difesa di Israele da parte di Israele stesso e dei suoi alleati in realtà e poi è stato sottolineato il fatto che la collaborazione dei paesi arabi Giordania per esempio e addirittura Arabia Saudita qualcuno ha detto Arabia Saudita nel frattempo ha riportato anche Times of Israel non esattamente una fonte sospettabile insomma di collaborazionismo con il nemico ha dichiarato che l'Arabia Saudita non ha assolutamente partecipato e ha negato il proprio territorio a qualsiasi tentativo di ritorsione statunitensa nei confronti dell'Iran la Giordania ha detto una cosa molto precisa ha detto non accettiamo che il nostro territorio diventi ostaggio di una guerra tra Israele e l'Iran questo contempla anche l'altro lato della medaglia cioè la Giordania ha partecipato all'abbattimento dei droni dei missili iraniani lanciati verso Israele ma probabilmente il fatto che Israele abbia agito abbia attivato le proprie cellule i propri diciamo agenti all'interno dell'Iran e non abbia invece lanciato vettori dal proprio territorio indica che forse la Giordania avrebbe fatto la stessa cosa abbia cercato di intercettarli nei limiti delle sue capacità questo non significa che la Giordania è schierata a favore di Israele insomma bisogna anche essere secondo me un po' un po' precisi e poi vorrei dire un'altra cosa Ronen Bergman che è un giornalista di punta israeliano uno dei più autorevoli che scrive per varie testate ed anche per il New York Times ha dichiarato su Twitter che basandosi su delle fonti interne al gabinetto di guerra israeliano se i colloqui che si stavano tenendo duramente all'interno del gabinetto di guerra israeliano mentre avveniva l'attacco della rappresaglia iraniana fossero stati pubblicati su YouTube 4 milioni di israeliani sarebbero recati all'aeroporto Ben Gurion per lasciare il paese quindi insomma non c'era un clima di tranquillità e di moderazione evidentemente qualcuno diceva che c'era segnali di panico perché comunque per la prima volta il territorio israeli si è reso conto che il suo territorio è bersagliabile da parte dell'Iran quello che diceva Stefano è verissimo e anche il fatto del dispendio di quell'operazione perché l'Iran ha speso poche decine di milioni di dollari per mettere insieme quell'attacco l'operazione difensiva israeliana con tutti gli alleati si parla si va di diverse stime dagli 1,3 ai 3 miliardi di dollari insomma non so quante volte potete applicarla quindi c'è una disparità chiaro c'è una disparità assoluta e probabilmente questo peserà anche in in ottica futura e veniamo all'ultimo argomento vi chiedo 5 minuti per poterlo trattare magari lo riprenderemo un tema direi assolutamente da su cui porre l'attenzione perché come dicevo all'inizio del nostro appuntamento Russia e Cina crescono economicamente più del previsto come dicevo la Cina addirittura il PIL è più 5,3 nel primo trimestre e il Fondo Monetario Internazionale praticamente che riconosce che le stime sul PIL della Russia erano completamente sballate diciamo Giacomo che uno degli aspetti che sono le sanzioni dell'Occidente hanno funzionato benissimo peccato che l'arma era un boomerang sì ma soprattutto io mi chiedo se queste siano previsioni o fossero propaganda auspici una speranza una speranza molto economicamente scientifico eh per quello perché io fin dall'inizio mi sembra molto strano che questi ritengono veramente di poter isolare un paese come la Russia così centrale nel commercio internazionale eh a suon di sanzioni in quella maniera mentre il resto del mondo cioè non è stato nemmeno consultato eccetera infatti è andata esattamente così non è neanche stato un atto di superbia alla fine di arroganza sì ma poi a parte ma poi c'è stato anche il fatto che le sanzioni sono state sfruttate dalla Russia come diciamo barriera protettiva per la valorizzazione delle potenzialità interne noi vediamo che la Russia sta sviluppando delle stafinando per la verità delle potenzialità che già aveva nei settori dell'industria per esempio e quindi sta diventando autosufficiente in una serie di comparti in cui invece prima che prima soddisfaceva attraverso le importazioni e la classica politica per usare un'espressione tipo economico di sostituzione delle importazioni con la produzione autoctona la Russia del resto ha tutte le risorse di cui ha bisogno per mettere in piedi una cosa del genere e nel momento in cui ha avuto diciamo delle strozzature dei colli di bottiglia si è rivolte ai suoi alleati per esempio ha ottenuto non so quanti milioni di tonnellate di polvere nera per artiglieria dalla Corea del Nord e dei droni di pubblicazione iraniana che poi ha debitamente su licenza modificato in stabilimenti installati in territorio russo quindi mi pare che ci sia la spesa pubblica in aumento e soprattutto se si guarda la distribuzione delle risorse cioè come diciamo l'impatto che questa crescita del PIL russo sta avendo sui vari strati sociali si vede che sono quelli in genere più poveri che hanno beneficiato maggiormente di questo incremento della produzione perché c'è stato chiaramente un incremento dei ritmi produttivi dovuto alla guerra che ha zerato la disoccupazione fondamentalmente e ha fatto sì che diciamo la Russia diventasse come dicevo autosufficiente in una serie di settori in cui prima non lo era per cui credo che da un punto di vista economico la partita sia dal punto di vista occidentale completamente perdente su tutta la linea e questo direi che la dice lunga sul ruolo e sull'autorevolezza di organismi come il Fondo Monetario Internazionale e su personaggi come il Ministro delle Finanze Bruno Le Maire che una settimana dopo l'imposizione delle sanzioni ha detto che la Russia sarebbe crollata nel giro di pochissimo Enrico Letta aveva detto la stessa cosa Mario Draghi ha fatto dichiarazioni simili quindi ecco sì infatti aspettavo dicessi Mario Draghi ma insomma dopo le elezioni di giugno potrebbe succedere alla Fonderlion per meriti acquisiti Stefano ma Letta e Draghi oltretutto sono coloro che ultimamente vogliono proporci le soluzioni ai problemi dell'Europa gli stessi che non hanno saputo individuare la reale situazione dell'economia russa anzi l'hanno completamente sbagliata adesso ci vogliono dire che cos'è che non funziona nella nostra ma dico ma se loro sono la causa del problema non vedo perché dovrebbero trovare le soluzioni ecco basta fare l'opposto di quello che dicono e magari facciamo qualcosa di buono adesso cerca le soluzioni regime 28 qualcosa del genere non mi ricordo come l'abbiano chiamato qualcosa del genere comunque qualche cosa che parla di economia di scala all'interno dell'Europa vogliono l'esercito unico ho fatto un esame della situazione ho visto che hanno in Europa ci sono già dei progetti che vanno ognuno per la propria strada per i prossimi decenni e di conseguenza mi chiedo di quali economie di scala vogliono parlare in realtà vogliono sottrarre il controllo degli eserciti nazionali ai singoli stati e metterli a servizio loro di fatto dell'elite economica che controlla l'Europa a spese chiaramente di tutti i cittadini il problema della Cina o della Russia è che l'Occidente doveva per forza di cose muoversi in conflitto contro queste realtà del mondo odierno e per farlo dovevano convincere un ignorante impreparata classe politica a fare le scelte sbagliate che servivano ad essere fatte per poter arrivare al conflitto di conseguenza tutte le analisi e le previsioni economiche militari sull'andamento del conflitto si sono rivelate misteriosamente tutte sbagliate ora o abbiamo delle persone che non sanno leggere i bilanci o non sanno leggere i livelli di produzione delle industrie singolarmente o semplicemente hanno alterato magari delle 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 previsioni reali in modo da addomesticarle alle scelte che dovevano essere fatte ecco perché non si capisce come il fondo monetario sbagli regolarmente tutte le previsioni sulla Russia sbagli regolarmente tutte le previsioni per gli avversari degli Stati Uniti e sovravaluti magari nel contempo le nostre di fatto per l'Europa prevedevano sempre gli anni prima delle crescite che gli anni dopo non ci sono state anche per l'Italia l'uscita dalla crisi l'uscita dalla crisi l'uscita dalla crisi questa uscita non c'è mai siamo sempre nel tunnel della crisi e non ne usciamo di fatto ecco sulla Cina sulla Cina ricordati Carlo che nelle nostre proprio in questa trasmissione io e Giacomo abbiamo parlato più volte del fatto che la Cina non avesse in passato l'accesso a energia a basso costo cosa che invece grazie all'Europa adesso ha di conseguenza l'industria che è energivora per definizione le acciaie ad esempio trovano nella produzione minori costi al momento e quindi la Cina può competere meglio sui mercati rispetto alle aziende occidentali che invece hanno avuto un aumento se già prima erano competitive anzi facevano prezzi migliori adesso possono fare magari mantenendo addirittura margini di guadagno superiori prezzi inferiori di vendita perché hanno le miniere e perché lo lavorano a minor costo ecco perché Trump poi chiede scusa Biden chiede di triplicare i dazzi sull'acciaio cinese appunto appunto una proprio una flash finale Giacomo su anche questa sulla Cina e su Biden che appunto è costretto a ricorrere ad affermazioni di triplicare i dazzi sull'acciaio cinese non c'è da stupirsi cioè la Cina sta peraltro quella crescita del 5,3% nella prima parte dell'anno è attribuibile soprattutto ai successi per l'appunto maturati dall'industria scapito dell'edilizia ricordo che quando ci fu il caso Evergrande molti vaticinarono come sempre ogni due o tre mesi escono valutazioni di questo genere il crollo imminente della Cina sarebbe stata una nuova Lehman Brothers eccetera in realtà la Cina ha portato avanti un aggiustamento un riorientamento della propria struttura economica perché crescendo così rapidamente è molto difficile impossibile anzi non creare squilibri diciamo proprio a livello economico e sociale quello edilizio erano dei tanti perché sono state create intere città destinate ad assorbire tutta la mano d'opera che si spostava dalle campagne questo ha alimentato speculazione chiaramente su cui si sono ingrassati alcuni settori diciamo per l'appunto del real estate e delle burocrazie locali del partito comunista perché i terreni sono di proprietà dello Stato devono essere privatizzati in una certa maniera eccetera e quindi è venuto a determinare un circuito di corruzione che adesso la leadership di Pechino sta cercando di stroncare insomma anche tagliando le unghie al settore edilizio analogamente a una manovra analoga rispetto a quella che aveva fatto nei confronti del settore dell'antatecnologia con Jack Ma soprattutto anche tagliando le teste ricordiamo che per corruzione c'è la pena di morte in Cina esatto per cui la Cina sta muovendosi verso questa direzione e naturalmente la posizione di competitività data dagli investimenti altissimi al proprio interno e dall'accesso alle terminate risorse energetiche e materie prime russe formano una combinazione assolutamente vincente che gli Stati Uniti cercano di neutralizzare con la solita strategia cioè quella che un po' è stata sdoganata da Trump cioè dazzi sanzioni cercare di limitare le collaborazioni reciproche e le interconnessioni che ci sono tra le due economie il cosiddetto decoupling cercare di disaccoppiare le due economie il problema è che la Cina la Apple ha in Cina stabilimenti in cui lavorano 200-250 mila operai per ogni singolo stabilimento e una struttura demografica e dei costi analogo a quella che c'è la Cina non è in grado di replicarla a nessun paese quindi tutti questi tentativi mi pare che possono anche andare incontro al fallimento nel resto la visita di Janet Yellen a Pechino poco tempo fa aveva parlato la Cina di sovraccapacità produttiva e di distorcere i mercati la struttura dei prezzi a livello mondiale perché barava sostanzialmente in realtà è come il solito tentativo statunitense di cercare di scaricare la responsabilità dei propri errori al di fuori eh sì e questa è proprio stata la strategia e questa è stata rivelatrice per chi lo vuole vedere della visita in pratica della del ministro del tesoro Janet Yellen a Pechino la scorsa settimana siamo in chiusura di una puntata come sempre è nel caso di Giacomo e di Stefano ricchissima di analisi di informazione per le quali io ringrazio proprio Stefano Orsi autore del canale dell'omonimo canale youtube grazie Stefano grazie Carlo grazie Giacomo buona giornata a tutti e grazie a Giacomo Gabellini autore della canale youtube il contesto nonché prolifico scrittore grazie grazie molto Giacomo grazie a te Carlo buonasera a tutti grazie grazie a tutti voi amici ascoltatori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.